Buon pomeriggio a tutti, io sono Luigi Privitera. Nel mio lavoro di tesi mi sono occupato di analizzare i requisiti e studiare la fattibilità di un applicativo per giornalisti. In particolare questo lavoro si contestualizza in un processo più grande, più generale, che è quello che riguarda l'innovazione digitale. Questo processo coinvolge tutti gli ambiti dell'imprenditoria, quindi in particolare anche quello del giornalismo. E il nostro contributo è stato quello di aiutare la produzione delle infografiche. All'interno del mio lavoro si è strutturato in tre diversi momenti, tre diverse fasi, che sono una conseguenza dell'altra. In primis ho attenzionato la ricerca degli obiettivi specifici, ho provato a determinare in particolare, a partire dal problema generale, come affrontare tutte le singole fasi del problema, per poi dare delle soluzioni nella seconda parte. Queste soluzioni non potevano essere complete senza l'introduzione di un dataset costruito ad hoc, in quanto basate sul machine learning. Motivo per cui, nella terza fase, ho attenzionato proprio alla produzione di un dataset, e quindi di un tool che ne permettesse l'annotazione. In particolare, il lavoro di testi si contestualizza in un progetto già esistente, il progetto ARIA, finanziato dal Google Digital News Initiative nel 2018, che ha come obiettivo appunto la costruzione di quel prototipo di cui introduceva il professore Di Silvestro, che prendendo come input delle notizie già scritte, degli articoli di giornale, produce automaticamente delle infografiche. Il prototipo già riesce a estrarre tre tipi di grafici, in particolare grafici a torte a barre, poi le mappe, le mappe sono un problema particolare legato appunto alla spazializzazione di un articolo, quindi l'idea è quella di fare in modo di individuare all'interno di una cartina, di una mappa magari satellitare, determinati punti specifici e indicarli tramite dei marker. Lo stesso problema affrontato sul contesto temporale, quindi contestualizzare temporalmente un articolo, è affrontato appunto nel terzo punto, nel terzo task che riesce a risolvere il prototipo, che è quello delle time-make. Per questa tesi mi sono concentrato sul primo di questi tre task, che è quello dell'estrazione di grafici a torte a barre. I grafici a torte a barre sono un problema molto particolare, perché costituiscono un unico insieme di grafici. In entrambi i casi si vuole rappresentare in che modo un totale è diviso nelle sue parti, quindi la distribuzione interna di un intero che è appunto diviso in dei sotto insiemi che non si sovrappongono. In particolare, in che modo vengono rappresentate da un punto di vista giornalistico, quindi da un punto di vista linguistico, queste informazioni, tramite le percentuali. Possono essere introdotti anche altri metodi, come ad esempio le frazioni, che però non sono così comuni all'interno appunto del giornalismo. Per affrontare questo problema mi sono basato su un dataset che già esisteva, che era stato sviluppato appunto per il prototipo, annotato quindi dai giornalisti del Sicilian Post, progetto con cui è stato sviluppato il progetto ARIA, e questo dataset era stato annotato appunto dai giornalisti, erano 396 notizie divise appunto tra i tre task. In particolare, per quanto riguarda il task di cui mi sono occupato, quello delle percentuali, il dataset era strutturato in questo modo. Vediamo, Prodi aveva ottenuto il 73,5% dei consensi, Bertinotti il 15,4%. Vediamo appunto che sono state evidenziate le due percentuali, 73,5 e 15,4, e le rispettive etichette, quindi quelle informazioni testuali da apporre al grafico come leggenda. E quindi vediamo Prodi e Bertinotti, e in particolare queste etichette, tramite un indice numerico, sono state associate a queste percentuali. Quindi abbiamo individuato a questo punto dei sottoproblemi. Partendo dal problema generale, che è quello dell'estrazione delle percentuali da un articolo, abbiamo deciso di strutturare il lavoro in quattro fasi diverse, quindi partendo appunto dal primo problema, che è quello del determinare effettivamente quali fossero le percentuali di cui si parlasse all'interno dell'articolo, per poi passare alla determinazione di etichette, quindi quelle informazioni abbiamo detto testuali, che potessero poi essere riutilizzate nell'ambito del grafico, come leggenda. Poi abbiamo trovato come terzo punto il problema dell'associazione tra etichette e valori. Quindi una volta individuati i due insiemi, abbiamo deciso di connettere ogni elemento del grafo che si costruiva a questo punto, mediante appunto un modello. A questo punto però mancava l'ultimo punto, perché non tutte le percentuali contenute in articolo possono essere rappresentate all'interno dello stesso grafico, soprattutto in questo specifico caso. Motivo per cui è stato individuato il quarto sottoproblema, che è quello del raggruppamento e della suddivisione all'interno di più grafici delle percentuali introdotte. Quindi partiamo appunto dall'implementazione vera e propria, come sono stati risolti questi problemi. Vediamo nell'esempio, parliamo appunto dell'estrazione dei valori numerici, i 650 partecipanti provenivano al 47% dal nord e al 36% da sud dell'isola. È chiaro all'occhio di un umano che 47 e 36 sono le due percentuali di cui si parla all'interno di questo articolo. 650 pur essendo un numero non è una nostra scelta, non ci interessa, vogliamo trovare un modo per partire dall'insieme completo dei tre valori numerici contenuti nell'articolo e scartare il 650. Come facciamo? Si basiamo su un albero sintattico. Quindi un albero sintattico che abbiamo costruito con Spacey, una libreria di Python che permette una notazione grammaticale e logica del testo, che viene quindi suddiviso in token, in singole parole, per poi dare una contestualizzazione, vediamo, grammaticale, vediamo appunto il primo elemento nella parentesi, non è altro che parte di un'analisi grammaticale della singola parola, per poi dare una contestualizzazione logica data dalla struttura dell'albero, dalle dipendenze all'interno dell'albero e da un'annotazione, che vediamo come secondo elemento all'interno della parentesi, su quale fosse la dipendenza di un figlio da un genitore. A questo punto, quindi, vediamo all'interno del nostro articolo, abbiamo questi tre valori numerici. 650, 47, 36, vogliamo trovare dal contesto logico, da ciò che vediamo in questo albero sintattico, una contestualizzazione che ci permetta di scartare il 650. Quale potrebbe essere? Il fatto che 650 è l'unico numero che ha ruolo di aggettivo plurale all'interno del testo. E quindi riusciamo a scartarlo mediante una regola semplice, ma funzionale e generale, e ottenere le due percentuali che ci interessavano. A questo punto è chiaro che però un problema del genere può essere affrontato in maniera molto più generale, perché a partire da una considerazione puramente statistica, siamo riusciti a trovare una regola generale che permetta appunto di scartare dei numeri e quindi distinguere tra generici valori numerici e percentuali. Quindi questo stesso problema potrebbe essere affrontato, ad esempio, con un modello di NER, che quindi distingua queste due categorie. Passiamo quindi al secondo problema, quello dell'estrazione delle etichette. Abbiamo deciso di generalizzare un po' il problema non limitandoci semplicemente a estrarre le etichette vere e proprie che poi alla fine verranno apposte al grafico, ma abbiamo estratto dei segmenti di testo più generali, che sono quelli che ci permettono di essere eletti anche se estratti dal contesto, quindi che abbiano una struttura logica interna indipendente dal testo completo. Vediamo appunto nell'esempio, nel 2021, il 7% della popolazione usa regolarmente una sigaretta elettronica contro il 4,4% del 2020. È chiaro che gli anni, anche se letti fuori dal contesto, hanno un significato autonomo. Popolazione usa regolarmente sigarette elettroniche, essendo un nome, segue ancora questa regola. Come facciamo a estrarre testi di questo tipo? Sempre partendo da un albero sintattico. Stavolta quello che vogliamo fare è scartare dall'albero sintattico tutti quei singoletti che non ci interessano perché non dotati di per sé di significato. È il caso degli articoli, ad esempio. È il caso dei tempi composti dei verbi. Se parliamo di, ad esempio, è stato, è stato non ci interessa la parola è, non ci interessa la parola stato, ci interessa l'unione dei due perché è un tempo composto di un verbo e quindi lì, tramite un processo agglomerativo, uniamo questa coppia. Lo stesso problema, ad esempio, si può avere in un predicato nominale. Il verbo essere non ha un significato di per sé se non quello di introdurre un predicato nominale. Poi, ad esempio, è il caso degli aggetti e degli articoli che in generale non fanno altro che introdurre un nome dandone magari una contestualizzazione grammaticale ma che comunque non dà significato autonomo alla frase. È anche il caso dei nomi composti. Se vediamo stati uniti in una frase non ci interesserà mai avere la parola stati e la parola uniti separatamente ma vorremmo avere sempre l'unione delle due. Vediamo che utilizzando regole di questo tipo abbiamo estratto un albero sintattico molto più breve, molto più logicamente dotato di significato che ci permette di individuare già così delle etichette. Se noi scartiamo i simboli e le percentuali che abbiamo già individuato allo step precedente rimangono appunto tutte quelle che possiamo considerare etichette nel significato che abbiamo dato. In particolare vediamo i due anni che sono contenuti nel testo 2021 e 2020 che rimangono ancora etichette e sono effettivamente ciò che volevamo perché 2021 è l'etichetta del 7% mentre il 2020 del 4,4. Anche questo problema può essere generalizzato in maniera statistica perché queste regole associative, queste regole agglomerative possono essere trovate in maniera statistica quindi a partire da un dataset potremmo trovare delle distribuzioni di probabilità per queste regole e gestire la loro selezione proprio a partire dai dati. A questo punto possiamo passare al terzo problema che è quello del raggruppamento delle percentuali. Come facciamo? Perché più che altro vogliamo raggruppare le percentuali? Vediamo l'esempio. Nel paese di 5 milioni di abitanti solo il 43% è vaccinato l'80% dei ricoverati per Covid non ha ricevuto neanche una dose. La prima cosa che potremmo notare da questa frase è proprio il fatto che 43-80% non sono percentuali sommabili. Perché? Perché il 43% si riferisce al paese di 5 milioni di abitanti quindi è una parte del totale che sono gli abitanti del paese mentre invece l'80% si riferisce ai ricoverati per Covid. Motivo per cui non possiamo confrontare direttamente queste percentuali tra di loro né tantomeno rappresentarlo all'interno dello stesso grafico. Motivo per cui, come vediamo nella figura sotto, abbiamo diviso nelle due parti. Questo ragionamento sul totale a cui si riferisce la parte è proprio quello che ci ha mosso verso la soluzione. Perché? Se riusciamo a individuare all'interno del testo stesso una parte di testo che rappresenti il totale a cui si riferisce quella percentuale abbiamo rivolto il nostro problema. Possiamo classificare le nostre percentuali utilizzando come variabile di classificazione esattamente il testo che abbiamo estratto. In particolare, però, notiamo che questo testo non ha nessuna differenza strutturalmente dalla definizione che abbiamo dato alle etichette. Si parla sempre di segmenti di testo che siano autonomamente dotati di significato. È per questo che abbiamo generalizzato la definizione di etichetta e questa generalizzazione ci permette ancora di espandere il significato di ciò che possiamo fare anche ad altri campi, come ad esempio l'estrazione dei titoli, dei grafici che vediamo. A questo punto passiamo all'ultimo, il quarto e ultimo punto del nostro lavoro del nostro lavoro di ricerca di soluzioni ai problemi che avevamo individuato che è appunto quello dell'associazione tra etichette e valori. Vediamo ancora una volta un esempio. L'indice di gradimento del presidente più anziano della storia USA a luglio è sceso dal 50% rispetto al 56% del mese precedente. Vediamo che abbiamo individuato già a sinistra le percentuali al centro abbiamo individuato tutte le possibili etichette ciò che vogliamo fare è creare dei ponti tra gli elementi che abbiamo a sinistra e gli elementi che abbiamo al centro. Come facciamo? Utilizziamo un modello di programmazione lineare associamo ad ogni configurazione di collegamenti che possiamo individuare all'interno di questo grafo un costo quindi riportiamo il nostro problema a un problema di minimizzazione di un costo associato al nostro risultato che sia vincolato al fatto che ogni percentuale abbia almeno un'etichetta e che ogni etichetta sia associata al più a una percentuale. In particolare abbiamo deciso di utilizzare un approccio a torneo quindi in due fasi nella prima fase abbiamo minimizzato un primo costo che ci ha permesso quindi di trovare un insieme di ottimi e a partire da quell'insieme abbiamo applicato un secondo modello di ottimizzazione simile a quello ma con un diverso costo che ci ha permesso di trovare la soluzione finale. Vediamo appunto nello specifico quali sono i due costi che abbiamo introdotto. Abbiamo introdotto quindi questo primo costo il costo primario legato all'albero sintattico vediamo la lunghezza del cammino minimo che collega una percentuale a un'etichetta e poi come secondo costo abbiamo utilizzato un costo legato alla distanza all'interno del testo tra percentuale ed etichetta. Quindi definiamo intanto questa distanza come il numero di parole che separano queste due e consideriamo questa distanza per tutti gli accoppiamenti che abbiamo calcolato all'interno della nostra configurazione. A questo punto cosa facciamo? Ne calcoliamo la varianza. Questo ci permette, minimizzando la varianza noi riusciamo a ottenere un modello che ci permetta di fare in modo di rendere quasi standard la distanza tra percentuale ed etichetta il che tra l'altro ha particolari applicazioni molto interessanti che nella lingua italiana sono anche abbastanza frequenti. Vediamo appunto un esempio numerico del problema. Vediamo appunto che abbiamo associato un costo ad ogni possibile collegamento che parta dalla percentuale 50 e vediamo appunto che abbiamo trovato i due valori di minimo quindi l'indice a luglio. Facciamo lo stesso ragionamento per il 56 e vediamo che al 56 come minimo possiamo associare il mese precedente e troviamo quindi due soluzioni il che ci porta a pensare che all'interno di questo problema di ottimizzazione possiamo ancora applicare il secondo modello e trovare quindi una soluzione unica ed è ciò che facciamo. Le due configurazioni sono quelle che mostro qui in figura in rosso tratteggiato e in verde. Associamo quindi le due varianze a queste due configurazioni e chiaramente quella in verde è quella che vince perché l'indice è molto più distante rispetto alle altre due etichette dalle percentuali. A questo punto quindi abbiamo trovato la nostra soluzione che è esattamente quello che ci aspettavamo dal testo di partenza. Quindi vediamo il 50% è il valore dell'indice di gradimento a luglio mentre il 56% è il valore dell'indice di gradimento nel mese precedente. A questo punto passiamo all'ultima fase del mio lavoro che è quella del dataset. È legata al dataset perché abbiamo detto molti dei problemi che abbiamo affrontato sono di natura statistica in realtà. Quindi avendo un dataset possiamo trovare una soluzione che non sia banalmente basata su osservazioni generali ma che possa essere basata appunto su che possa essere data driven. Il problema è che non avevamo un dataset a priori e l'abbiamo dovuto costruire o meglio abbiamo dovuto progettare un dataset. Per farlo abbiamo individuato quali fossero le necessità a partire dai modelli che avevamo introdotto volevamo quindi trovare all'interno del dataset una percentuale, un'etichetta e un totale e associare tra di loro tutte le categorie. Vediamo appunto nell'esempio i 650 partecipanti provenivano il 47% dal nord al 36% da sud di isole 650 partecipanti e il totale a cui si riferiscono entrambe le percentuali e vediamo infatti il collegamento. Dal nord e da sud di isole sono le due etichette che potremmo associare a queste due percentuali. Quindi utilizzando delle relazioni e utilizzando queste evidenziazioni che abbiamo individuato possiamo risolvere tutti i problemi che abbiamo introdotto. Per farlo però abbiamo notato che avevamo introdotto una difficoltà con questa struttura del dataset che sono proprio le relazioni che sono un problema non molto trattato all'interno dei software di annotazione. Abbiamo notato infatti che i più famosi i più importanti e diffusi software di annotazione non hanno un supporto stabile per le relazioni o comunque è stato appena introdotto ed è ancora in fase di sviluppo. Il motivo per cui abbiamo deciso di costruire il nostro software di annotazione che è appunto basato su un'infrastruttura Docker è un database Postgres e fornisce all'utente due servizi. Uno che è un servizio di importazione automatica quindi che a partire da un dataset online da un feed RSS o qualsiasi cosa riesce a importare all'interno del Postgres gli articoli grezzi. Questi articoli grezzi saranno poi forniti tramite un'interfaccia web-based dall'altro servizio che forniamo che è appunto quello che si interfaccia con l'utente e l'utente che poi dovrà annotare gli articoli che verranno forniti che saranno stati già filtrati cercando di trovare solo quelli che contengono percentuali. In particolare l'interfaccia che l'utente si troverà davanti è proprio quella che è mostrata qui in figura. Vediamo che dal testo abbiamo estratto tutti i possibili numeri in realtà in modo tale appunto da favorire il primo step del nostro lavoro che è quello di selezionare all'interno dell'insieme dei numeri quali siano veramente percentuali e quali no. Questo task è lasciato appunto all'utente ed è l'utente stesso che può scartare. A questo punto a partire da ogni numero potrà essere associata un'etichetta come successione di token all'interno dell'articolo una qualsiasi successione. In particolare se l'utente però si rende conto che l'articolo non è adeguato al task non è adeguato ad essere trasformato in infografica può tranquillamente premere il tasto salta e evitare appunto l'annotazione il che può essere anche utilizzato poi in futuro per migliorare il software. Poi se un task su cui abbiamo puntato è anche quello di minimizzare la varianza all'interno del nostro dataset perché un singolo utente potrebbe avere opinioni discordanti rispetto a un altro quindi potrebbe esserci una differenza nell'annotazione. Per fare questo abbiamo deciso di introdurre un sistema di direi peer review che permette di far annotare randomicamente a due utenti diversi lo stesso articolo in modo tale da confrontare le due versioni e scartare tutte quelle che forniscono un'annotazione incompatibile. A questo punto ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. 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 Grazie.